Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Voi scappate pure, tanto io vi inseguo. Sembra Chiapparella quel gioco che in Toscana si chiama Chiappino e ciò che invece sta accadendo nel PD. Voi scappate, riferito a EDEM, papabili candidati al Parlamento che hanno rifiutato più o meno apertamente la celebrazione di un congresso provinciale per paura di perdere la poltrona. L'iovin segue del commissario della Federazione di Avellino, l'onorevole di Figline Valdarno, Davide Ermini, che non rinuncerà a riorganizzare il partito. I subcommissari Pagliaro e Di Guielmo, come preannunciato, sono stati nominati responsabili rispettivamente per Avellino Capoluogo e per la provincia. È la vendetta di Ermini per la mancata celebrazione del congresso che ha dovuto suo malgrado digerire. Congresso che non si farà, ma che al tempo stesso si tiene nei singoli circoli dei comuni irpini. Le assemblee territoriali non solo non sono state annullate, ma entro il 28 gennaio, se non dovessero celebrarsi, daranno vita automaticamente al commissariamento delle sezioni con nomi indicati da Ermini. In buona sostanza, il congresso delle tessere contestate, delle guerre intestine da scongiurare, della mancata discussione dei programmi e della visione di partito, si sta comunque svolgendo, evidentemente non con il coinvolgimento di 13 potenziali votanti. Toccherà ai sette circoli del capoluogo, in particolare strutturarsi e portare avanti idee e programmi per la scelta del futuro sindaco di Avellino. E il congresso provinciale, rinviato a dopo le politiche del 4 marzo, potrebbe a quel punto celebrarsi prima delle amministrative. Certo, dopo il 4 marzo bisognerà capire ancora chi rincorre chi e perché, dopo acchiapparella, in caso di esiti nefasti potrebbe essere la volta del nascondino.